Grazie a tutti 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 Ti hanno fatto l'amore Il pariurti dello suo alto è stato danneggiato da una ragazza? 207 grigio scuro E adesso cosa facciamo? Beh adesso? Adesso? Noi possiamo contattare telefonicamente la persona Però se poi questa nega tutto si può finire anche in tribunale? Ci mancherebbe altro chiedassimo in tribunale Se non avete nessun testimone si può finire in tribunale? Se poi nega si può finire in tribunale? Beh, sapete cosa possiamo fare? Potete andare voi direttamente all'ACI Potete farvi fare la visura ed è la soluzione migliore Io te l'ho detto E una donna te l'ho detto è stata una donna Questo poi non vuol dire Ma come? Non vuol dire La proprietaria dell'automobile è una signora di 60 anni Di dov'è? È di Molinella, provincia di Bologna Molinella? Ma di 60 anni Però è dove? No, ma nel biglietto c'è E io l'ho gioco Basta la pede 60 anni Io non riesco Ma non è che sia sbagliata 60 anni No Comunque sono 15 euro Porca Oh porca Eh così 60 anni la cosa 15 euro 15 euro Cioè spendiamo più Quelli 15 euro Eh? Dell'ACI Che viaggio 15 euro Noi andiamo a sbagliare lì 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 Abbiamo.. dai Papa Papa Scusa Ma per sta cosa qui mi avete fatto alzare? Eh In 2 ore facciamo tutto Ma come siete messi per sta cosa qui? è una questione di principio credo io 300 euro per questa cosa qui dai ma cosa vuoi avere 300 euro? vieni qua guarda lì ascolta un po' tu ti permetti di alzarti alla mattina a mezzogiorno e non fare un cazzo e poi tu sei l'unico che ha la patente quindi dai per favore lascia aperto lascia aperto dai 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 contenti? eh? di cosa? contenti che sono venuto? eh? eh contenti? no poi tutti i giorni ti si vedi tante le due oggi ti si vedi a due ore prima non so mica la fede molto mi chiamate solo quando avete bisogno per ste strontate veramente sempre beh scusa un po' tu sei l'unico che hai la patente ecco la patente ma rischiatevo già senza patente senza patente senza patente tanto lo usiamo solo dal bar a casa da casa al bar c'è pochissima strada vabbè posso capitare delle cose così dopo tocca a me capito? la cosa è capitata con la macchina è il parcheggio non eravamo in movimento era ferma la macchina poi intanto intanto questa aveva detto quella dell'agenzia aveva detto che è una di 60 anni allora? allora può darci che abbia la figlia facciamo trovare ma basta dai basta dai devi essere parlare di no devi essere parlare di ste cose capito? fermati fermati lo continua fermo dai dimmi il nome della via dai via Masi 27 Masi? 27 oh mi avete fatto lozzare quindi adesso state calmando cambi cosa uh Chi? la picca ah e poi quando siamo qua chi parla? Perché io non parlo qua Allora fa delle leva lui, Gianni No, io introduco la faccenda Voi vai avanti te No, introduco io e vai te No, no, no Vabbè, parlate, parlate, ok Uno, due parlano perché io non parlo Voglio fare una prova adesso Siamo al caso che io sia donna Voi arrivati suonate Chi è? Allora, bisognerebbe dire E lei che c'ha rotto il parafango? Vabbè 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 Il foglio c'era il gritto No, no Quale paraurti? E se per caso Lei dice così Beh Non c'era Il biglietto lì Con i suoi dati Guarda che lei può anche negare tutto Questa qua Ma cosa vuoi che nega? Perché nega? Magari Magari arriviamo lì Non c'è niente Ma che fantasia hai? Cerchiamo la macchina Prima di suonare Prima di suonare magari Andiamo la Cerchiamo un po' la macchina C'è un tardino Qualcosa Non so che zona sia Capito? B before La macchina Querdiamo Che E Chaffè! 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 Ma dove vai? Ma dove vai? Questo lascia la macchina qui in mezzo alla strada, quel deficiente in mezzo Chaffè! Chaffè! Non è che c'è tutta, non è che c'è Coglione, coglione 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 Coglione, coglione Coglione, coglione 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 Coglione, 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 coglione è la più giù, è la più giù che faccio guarda, guarda, guarda è la è la, guarda vieni, vieni subito la è la in fondo dai, piccicaccio entri, forciate dentro dai forza, forza forza, dai, dai dai, vai, vai vai vai, vai, vai dai, dai che è quella ti ho detto che è quella forza dai, dai c'ho la macchina dai guarda 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 dai stiamo in curva adesso non la vedo più la macchina avanti dai c'è quella non è quella dai vai è quella vai 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 è forte buona volta che c'è il letto come dai bambina batteria scelta dov'è? all'è ecco guarda non abbiamo perso no no è dopo questa curva guarda la curva no 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 non ci credo no 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 tornate indietro quando potete dai spegni quel boccino lì su dove sta ma dove sta via via ma c'ha detto vai piano perché no 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 guida sinistra l'abbiamo 6 un in l'abbiamo Grazie a tutti. 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 anche a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 a tutti.